Istituzioni ed alunni a confronto all'istituto comprensivo De Nicola Sasso per discutere dei rischi della rete di come navigare sicuri su internet. La De Nicola Sasso è molto attenta a questo pericolo del navigare in maniera non protetta e sicura. Infatti sono tematiche che vengono affrontate anche quotidianamente dai nostri docenti di classe, a parte che abbiamo anche il laboratorio di informatica, quindi quello è il contesto migliore per sensibilizzare gli alunni nel momento in cui fanno delle attività anche seguiti, guidati dai professori, non dobbiamo dare per scontato che nel frattempo quando non c'è l'occhio vigile del docente non stiano andando in siti pericolosi. Avete individuato emergenze rispetto ai ragazzi su questo argomento nel corso di questi anni? Allora quest'anno stranamente no, non ci sono stati neanche casi di cyberbullismo perché sapevamo benissimo che è un fenomeno che in rete viaggia velocemente il cyberbullismo. Due anni fa sì, quindi ecco perché due anni fa c'eravamo attivati per affrontare questa tematica con un convegno. L'anno scorso non c'è stata la possibilità per motivi organizzativi. L'incontro si è tenuto mercoledì pomeriggio nella sede di Corso Vittorio Emanuele ed ha visto anche la partecipazione dell'amministrazione comunale con il vice sindaco Michele Polese. Ci sono azioni concrete o misure strategiche dell'amministrazione comunale da mettere in campo rispetto all'argomento? Certamente è qualcosa che va inquadrato nell'ambito a mio parere della pubblica istruzione e delle politiche sociali. Parlavo col magistrato e mi diceva che come procura della Repubblica stanno approntando un protocollo di intesa. Ho chiesto di essere informato su questa cosa perché ritengo che magari una volta stilato questo protocollo, poter aderire al protocollo e poter istituire patti di collaborazione con le autorità preposte, potrebbe essere una delle strade da percorrere. Un parterre d'eccezione è quello offerto agli studenti per fornire loro un'analisi dettagliata e completa dei rischi e delle insidie alle quali soprattutto i più giovani possono essere inconsapevolmente esposti e suggerire loro gli utili strumenti per contrastare le forme di pericolo. Qual è il messaggio che si vuole lanciare ai ragazzi? Tutti i giorni noi ascoltiamo notizie drammatiche di alunni, di studenti soprattutto che sono sottoposti a questi pericoli continui della rete. Abbiamo una delle massime autorità di questo settore, un magistrato che lavora ormai da anni nel settore, c'è uno psicologo, un giurista. Io credo che sia necessario proprio abbracciare tutte queste varie parti per far sì che i ragazzi possono avere un ampio spettro dei pericoli che ci sono in rete.